Ciao a tutti, sono Marco Vigilini, oggi scopriremo come si coltiva in Minecraft. Dobbiamo scoprire cosa serve per coltivare un orto, come coltivare l'orto e come si raccoglie il risultato della nostra semina. Andiamo a vederlo insieme. Per coltivare un orto ci serve innanzitutto una bella zappa. Zappa. Possiamo scegliere la zappa di legno e con la zappa incominciare a coltivare il nostro terreno. Prendiamo in mano la zappa, tasto destro, incominciamo a scavare. Stiamo incominciando a zappare. Poi ci servono degli oggetti. Prendiamo per esempio grano. Semi di grano, ovviamente. Questo sarà il risultato della nostra semina. Proviamo a mettere dei semi di grano. Poi per avere un bell'orto ci serve ovviamente del sole per far crescere il nostro raccolto. Poi ovviamente un terreno come questo che abbiamo già zappato. Ecco, vediamo in questo caso qui la sabbia. Sto premendo il tasto destro. Il tasto destro. La sabbia. Sulla sabbia non è possibile realizzare il nostro orto. Un'altra cosa molto importante è che dobbiamo avere dell'acqua. Acqua. Prendiamo un secchio d'acqua. Mettiamolo nel nostro inventario. E cosa vedete adesso? Che in assenza di acqua il nostro terreno si incomincia a seccare. Ok? Per questo ci serve l'acqua. Quindi faccio una buca con il tasto sinistro e con il tasto destro metto dell'acqua. La proprietà del terreno coltivato con presenza di acqua permette l'irrigazione. Guardate questo blocco. L'irrigazione del terreno. Ok? Adesso questi blocchi incominceranno ad inumidirsi. L'acqua, due, tre, quattro, riesce ad inumidire tutto ciò che è a distante dall'acqua. Quattro blocchi. Due, tre, quattro. Quindi questo blocco tra un po' si seccherà. Mentre questi piano piano diventeranno umidi. Guardate questi come hanno già cambiato colore. Ok? La stessa cosa vale per la diagonale. Due, tre e quattro. Ok? Tutta questa zona qui viene irrigata adeguatamente da questa zona di acqua. Ok? Ultima cosa. Se volete far crescere il vostro raccolto molto velocemente, tasto E, accediamo al nostro inventario e cerchiamo la farina d'ossa. In mano prendo la farina d'ossa, tasto destro ed ecco il nostro grano che magicamente è cresciuto e velocemente tra l'altro. Allora, abbiamo scoperto quindi cosa ci serve per coltivare. Riassumo, ci serve una zappa. Ci servono degli oggetti da piantare. Io li ho scritti qui, li ho messi qui. Semi di grano, semi di zucca, semi di cocombero, semi di barbabietola. Secchi d'acqua, ci serve per inumidire il terreno che abbiamo arato con la nostra zappa. Zappato. Patate, carote, farina d'ossa come fertilizzante. Se dovesse farvi cadere un po' di acqua al di fuori di un buco, ok? Potete utilizzare la lana che asciuga l'acqua. Proviamo a prendere un po' di carote e piantiamo le carote. Ora con la nostra farina d'ossa vedete che le carote sono subito pronte. Guardate questo blocco come si è seccato perché è distante più di quattro blocchi dalla nostra fonte di origine. Uno, due, tre, quattro, blocco secco. Vediamo come si raccolglie il raccolto. Ovviamente io adesso sono in modalità creativa. Se premo con il tasto sinistro distruggo il tutto. Quindi dobbiamo essere in modalità sopravvivenza oppure, poi ve la farò vedere come si raccoglie in modalità sopravvivenza, oppure se siamo in modalità creativa è sufficiente cadere, saltare insomma, sul raccolto e questo viene immediatamente preso dal nostro personaggio. Zappa, zappa, questo non va. Un'altra cosa che possiamo dire è che dai semi si raccoglie il grano. Vediamo un attimo. Fertilizzante. Da tutti gli altri oggetti, come per esempio la carota, si raccoglie la carota. Ok, quindi dai semi raccogliamo il grano. Mi metto in modalità sopravvivenza, slash game mode S. Ok, adesso io con il tasto sinistro raccolgo il grano. Eccolo qua. Grano. Ok. E cosa succede poi? Che dai nostri semi di grano, un po' di fertilizzante, li facciamo crescere velocemente. Ok. Tolgo tutti questi blocchi così non li vediamo. Ok. Quando io raccolgo il grano, escono anche i semi. Guardate qua. Grano e semi di grano. Dalla carota invece, raccogliamo la carota. Proviamo a prendere patate. E seminiamo cosa? Le patate. Fertilizzante che ho qui. Carota. No, fertilizzante, fertilizzante. Ecco fatto. E raccolgo le patate. Fate attenzione a proteggere il vostro raccolto dagli animali. Perché potrebbero ovviamente distruggerlo. Io credo che sia tutto. Quindi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti. Ciao a tutti.